Buongiorno, sono Ilaria Dupré. Io collaboro con l'Associazione Mercurio lavorando sul progetto Pink Sea the Whale. Arrivo dal mondo dell'arte, sono laureata in storia dell'arte, ho fatto un master in organizzazione e curatela delle arti visive, lavorando in musei sia all'estero che in Italia. Ho deciso di abbracciare questo bel progetto che si occupa di arte nel mondo del sociale. Mi sembrava la conseguenza logica della mia esperienza e della mia vita personale.